Il ballerino di Giacomo Gastotti ed è un invito alle danze per conquistare la sua dama. Il ballerino di Giacomo Gastotti ed è un invito alle danze per conquistare la sua dama. Il ballerino di Giacomo Gastotti ed è un invito alle danze per conquistare la sua dama. Il ballerino di Giacomo Gastotti ed è un invito alle danze per conquistare la sua dama. Il ballerino di Giacomo Gastotti ed è un invito alle danze per conquistare la sua dama. Il ballerino di Giacomo Gastotti ed è un invito alle danze per conquistare la sua dama. Il ballerino di Giacomo Gastotti ed è un invito alle danze per conquistare la sua dama. Il ballerino di Giacomo Gastotti ed è un invito alle danze per conquistare la sua dama. Il ballerino di Giacomo Gastotti ed è un invito alle danze per conquistare la sua dama. Il ballerino di Giacomo Gastotti ed è un invito alle danze per conquistare la sua dama. Il ballerino di Giacomo Gastotti ed è un invito alle danze per conquistare la sua dama. Il ballerino di Giacomo Gastotti ed è un invito alle danze per conquistare la sua dama. il ballerino di Giacomo Gastotti ed è un invito alle danze per conquistare la sua dama. Il prossimo brano che vi facciamo ascoltare si chiama Sentomi la formicola E' un delizioso scherzetto sulla formica che dalla gambetta alla pancetta sale fino a sopra C'è una spalla, dai, veniamo qua Dai, sopravvive la conoscenza Sentomi la formicola sulla gambetta Madonna, madre, sento milagra Sentomi la formicola sulla gambetta Madonna, madre, sento milagra Sento milagra Sentomi la formicola sulla bruscietta Madonna, madre, sento milagra Sentomi la formicola sulla bruscietta Madonna, madre, sento milagra E' un delizioso scherzetto sulla bruscietta Madonna, madre, sento milagra Sentomi la formicola sulla bruscietta Madonna, madre, sento milagra Sentomi la formicola sulla bruscietta E' un delizioso scherzetto 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 con il vola vola vola, siamo un coro comunque a Puzzese, siamo un coro di Pescara, ci salutiamo e vi ringraziamo voi per essere stati qui per questa serata, Gabriella in particolar modo perché ci ospita sempre e noi accettiamo con molto, molto l'alba. Allora, Natale, col fresco, a finestra aperta. A posto che chiama un burro, una finestra, no, è un modo molto simpatico. Qui all'alba ci sono 3-4 pistole, alcuni sono gentilissimi, alcuni sembra che ci stanno fare un favore. Allora, uno dei pistole di questa sera, Gianca, per favore non riprendere queste mie...